adesso vi mostrerò musiche tipiche brasiliane questa qua è vera non è la presa per il culo musiche tipiche brasiliane al mercato mercato centrale questa è vera non è la presa per il culo questo mercato centrale c'è anche l'arbero di natale ma fan caldo dalla madonna per la natale questo è l'arbero questo chi è? Diana Jones cazzo c'è solo la mimetica e questo è il mercato centrale solo che adesso io non entro perché ho un appuntamento e devo vedere gente e questo è questo qua mercato centrale, musica, gente, caldo dalla madonna e la prossima volta si parlerà di vietanze tipiche brasiliane quelle vere, le solite, le solite mie minchiate un saluto a tutti da Brasile e un buon Natale in anticipo ciao Italia e questa musica sta nel CD volume 4 da qui a poco Grazie.